Ieri pomeriggio, alla Casa delle Culture e del Volontariato, si è tenuta l'Assemblea Cittadina organizzata dall'Associazione di Promozione Sociale Noi per la Salute Tina Anselmi. Durante l'Assemblea, dove erano presenti diverse associazioni che agiscono sul territorio nisseno, il Presidente Giuseppe Pastorello, insieme agli altri componenti dell'Associazione, hanno discusso sull'incontro avuto con l'Assessore regionale alla Sanità Giovanna Volo e sulla presentazione del programma di lavoro che l'Associazione intende svolgere nel corrente anno. Non è solo un'occasione per fare dei bilanci, è anche un'occasione per stabilire delle sinergie con le altre associazioni operanti sul territorio e con le quali noi contiamo di poter organizzare un'azione che sia incisiva in termini di informazione ai cittadini relativamente ai loro diritti e ai servizi che i cittadini possono e devono ricevere dal sistema sanitario in questo territorio. In questo periodo noi abbiamo anche operato una ricerca di collaborazione e di informazione con le istituzioni comunali, quindi abbiamo incontrato il Sindaco di San Cataldo, il Sindaco di Mussomeli, abbiamo in animo di incontrare anche altri sindaci del territorio e questo anche in vista dell'organizzazione del tutto nuova dal punto di vista dell'offerta sanitaria relativamente alle case di comunità e gli ospedali di comunità che vedranno protagonisti i territori e quindi anche i sindaci. L'associazione come ricordo è un'associazione che mira a mettere sul campo tutte iniziative che regolamentino un po' la sanità nel nostro territorio, nella nostra provincia, nel senso dove noi vogliamo dare un contributo sostanziale alla soluzione dei problemi che ci sono nella nostra provincia. Parlo di liste di attesa, parlo di pronto soccorso, parlo di carenza di organico a livello aziendale, quindi degli ospedali in generale, ma parlo anche del coinvolgimento di tutti i sindaci della provincia di Cattanissetta, delle istituzioni di Sua Eccellenza il Prefetto e delle istituzioni che sono naturalmente interessate al bene comune di questa provincia.